Professor Francesco Delzio, preside dell'Istituto Jovine di Campobasso, ci troviamo nell'Aula Natura WWF che è una particolarità del vostro istituto. In questo mese di dicembre sono previsti tre Open Day. Ora, l'Istituto Jovine è una piccola scuola ma è una grande famiglia. Infatti l'Istituto Jovine è dotato di un corpo docente di tutto rispetto che praticamente oltre ad utilizzare a favore degli alunni le metodologie classiche utilizza anche le nuove metodologie, quelle collaborative che fanno utilizzo di strumentazioni informatiche quali robottini, stampanti 3D, visori per la realtà virtuale. Siamo quindi attrezzati per la digitalizzazione, per il passaggio alle nuove tecnologie del futuro. Ma ad essa si accompagna anche un'ampia offerta formativa, le attività laboratoriali di teatro, abbiamo l'orchestra, abbiamo praticamente tante altre iniziative che consentono agli alunni appunto di stare qui tutta la giornata e di poter fruire di questa moderna struttura antisismica, una delle poche in questa regione. Tra l'altro essa è anche dotata di un ampio parcheggio che consente ai genitori anche di poter tranquillamente accompagnare i loro figli. Avete deciso di spalmare gli Open Day nei mesi di dicembre e di gennaio, come li avete suddivisi? Allora ci saranno una giornata dedicata all'infanzia, quindi un Open Day per l'infanzia, una giornata per la scuola primaria e una giornata per la scuola secondaria di primo grado. Questo sia nel mese di dicembre che nel mese di gennaio. Le date sono visibili sul nostro sito. La particolarità dell'aula WWF nella quale ci troviamo a realizzare questa intervista? Essa consente agli alunni di poter dedicarsi a un'attività didattica non solo teorica ma anche pratica perché possono verificare come evolve questo microambiente e possono nella pratica apprendere come tutelare il nostro ambiente.